Si chiude un mese di agosto di intensificati controlli della Guardia di Finanza di Pesaro Urbino via terra e via mare in contrasto e leciti in materia economico-finanziaria sul litorale, nei parchi, nelle stazioni ferroviarie e nei principali luoghi della Movida. I numeri dei controlli dicono di oltre 1200 persone identificate e per quelli che riguarda il tema di contrasto agli stupefacenti di ben un chilo di droga sequestrata fra marijuana, Ashish ed Eroina grazie al supporto delle unità cinofile. Lungo il litorale fra Pesaro e Fano sono stati anche controllati 16 esercizi pubblici con 8 soggetti segnalati alla procura per violazione alla normativa sui diritti d'autore. Sono stati anche individuati 9 lavoratori in nero e 18 irregolarità nelle missioni degli scontrini. Sono stati inoltre sequestrati 1.361 prodotti insicuri ai sensi del codice del consumo e 4.788 articoli contraffatti. L'attività di servizio svolta via mare da parte del reparto operativo Aeronavale di Ancona ha anche consentito di effettuare 71 controlli di polizia a imbarcazioni da diporto e unità da pesca rilevando 14 violazioni di carattere amministrativo.